La mia la mia la mia è la mia 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 la la mia la la mia la 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 lupai e tu che cosa dici eh? cosa dici tu? io per forza per forza all'interno del boxy vi posso fare un po' di video se no Il padre... No, no, no... Quel che ha petto, ne ha quel che ha petto. Oh, si bella! Oh, si è bellissima mamma mia. Ciao, piccinina! Ciao, piccinina! Ciao, piccina! Ciao, piccinina! Come va? Come va Alica? Come va la vita? Il pelo cresciuto, insomma stiamo facendo proprio dei progressi, vero amore, vero amore, che c'è cosina bellissima. Oggi cos'è venerdì? Venerdì? 14 giugno? E se decisamente tanto avanti, vero ciccia? Vero perché non mi guarda? Attenzione che se si apre il box, aspetta che se no, qui, metto con i piedi e ho preso trovate i guantini, ecco. Allora amore, allora amore, e quanto sei bellissima tu, e quanto sei bellissima, eh? Quanto sei bellissima tu. Amore, la cuginina, la cuginina. Amore, la cuginina, va bene, mi hanno detto di essere breve, siamo già a tre minuti, basta. Vado un saluto a tutte le zile, mamma, è vero? E tutte le tate, tutte le persone che ti amano. A tutti, 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 cari amore. Ciccia? Cia retta? Cia fina? Cia lucina? Ciao mamma, ciao mamma, ah, ciao mamma, quanto sei dolcissima e bellissimissima. Dai. No, 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 non ti affaticare, non ti affaticare, non ti affaticare che poi mi urlano. Mi dicono che tu non ti devi... Guardate come, come si è ingrassata la piccinina. Guardate come si è ingrassata con quella codina, con quella codina. Aspetta mamma, aspetta mamma, aspetta, 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 aspetta. E ciao mamma, e ciao zia. Aspetta che c'è il cancello aperto, eh? Prima o poi anche tu correrai, mamma, capito? Capito? Ciao amore, ciao amore. Grazie a tutti.